Buongiorno a tutti, buona domenica 12 di gennaio, sempre dall'associazione Noi Credevamo Banca Popolare di Vicenza. Oggi è il giorno dopo la nostra assemblea di ieri, di sabato a Bassano, ne hanno parlato e ne stanno parlando tutti, sia giornali che istituzioni, ve lo dico anche giù a Roma, un'assemblea impressionante. Abbiamo aggiornato i numeri in queste ore insieme con lo staff finito i conteggi, abbiamo avuto più di 3200 partecipanti, quindi grazie per 3200 volte a tutti quelli che hanno investito un sabato mattina per venire ad ascoltare, per venireci ad ascoltare. La cosa è molto importante perché vedete, più siamo, più se ne parla, più i risultati arrivano. Abbiamo messo l'assemblea sulla pagina Facebook, avete capito il contenuto, quindi lo ribadiamo. Fate domanda perché il ristoro riguarda tutte le persone fisiche, tutte le persone fisiche, commercianti e società e piccole imprese, tutti, senza limiti di reddito perché con le tipizzazioni che sono uscite, lo abbiamo spiegato sulla pagina sul video, si sono abbattuti tutte le barriere e tutti i limiti. Quindi io vi prego di condividere questo video, le informazioni che abbiamo messo e il video dell'assemblea se vi è piaciuta e se avete partecipato. Cliccate sull'assemblea per dimostrare che avete partecipato così diamo ampio spazio di tutte le informazioni che abbiamo dato. C'è nel video il modo con il quale potete inserire la domanda al FIR nella piattaforma, quindi guardatelo perché lì ci sono le istruzioni. Ai nostri associati manderemo un va de me comunque e vi ricordiamo oltretutto che c'è una squadra di professionisti a noi legata, pronta a darvi una mano per una cifra modica, modicissima in realtà. Dopodiché la cosa importante è chiedere i documenti alla banca, entro 18 di aprile fare la domanda ma comunque fare la domanda lo stesso. Anche se non abbiamo i documenti bisogna fare la domanda, bisogna registrarsi e fare comunque la domanda. Dopodiché durante l'assemblea vi abbiamo spiegato quali sono le intenzioni che abbiamo in maniera concreta e come poter arrivare anche oltre il 30% del rimborso. In questo ci aiuterebbe la desecretazione dei documenti della vecchia commissione banche, la stiamo spingendo, la spingeremo. Stateci vicini, dateci una mano e vi prego condividete le informazioni che abbiamo dato ieri. Grazie mille a tutti e buona domenica ancora. 3.200 e oltre, grazie. Grazie ancora e grazie a tutta la squadra che ci segue, grazie a tutti.